benvenuti buongiorno siamo all'ultima conferenza stampa del torino film festival prima della conferenza stampa dedicata ai ai premi collaterali grazie allora ovviamente la conferenza stampa di mi chiamo altan e faccio vignette di stefano consiglio che siamo molto contenti di avere al festival visto che siamo in tanti sul sul palco inizio sul palco al tavolo inizio subito da stefano chiedendogli da dove nasce l'idea di fare un film su altan sì certo no l'idea del film su altan nasce nasce da quando conosciuto altan che l'ho conosciuto proprio qui al festival di torino nel 2002 dove invitato da cosimo torlo per il premio ceputi l'ho vinto e quindi la mi hanno dato la statuetta di ceputi con la macchina da presa e come ho detto in questi giorni come dice ananni moretti non ci siamo mai persi di vista finché un paio d'anni fa con un progetto anche in questo caso c'entra cosimo torlo siamo andati a trovare che qua da quileia e io mi è sembrato il momento giusto di chiedergli se aveva voglia di fare un film che io avevo voglia di fare un film con lui e su di lui e lui mi ha detto sì anche se un secondo dopo ha detto oddio in che storia mi sono cacciato puro sì l'altaniano ormai aveva detto di sì ed è un uomo di parola e quindi io sull'onda di questa fiducia mi sono buttato in questo progetto che è esordito a torino come era giusto che fosse grazie a questo punto devo chiedere ad altan come come è stato mettersi così prestarsi a questa questa radiografia in qualche modo è stata una grande imprudenza ma comunque ormai come diceva stefano avevo dato la mia parola e ha dovuto pedalare come si dice no alla fine però credo che il risultato sia sia buono ho sofferto ma non troppo anche se a vedermi soffro tuttora moltissimo perché non non sono l'attore giusto per questo film secondo me che è bello però a questo difetto visto che ci sono anche i produttori nicola giuliano andrea gambetta ovviamente chiedo a loro cosa produttivamente cosa cosa ha significato avventurarsi in questo è un grande privilegio con con stefano avevamo già lavorato su un altro documentario che era dedicato a giuseppe vertolucci che appunto era vive a giuseppe in questo caso insomma è stato un po il privilegio di avere uno dei grandi artisti che ha raccontato la storia italiana è un po la domanda che ci veniva fatta era spesso come avevamo fatto davvero a convincerlo perché poi appunto al tan non va in televisione non da non da con con piazzieri lunghe interviste quindi insomma stefano è stato bravissimo a raccogliere i racconti che in qualche modo sono appunto nel documentario questo anche grazie appunto a un progetto che è nato proprio qua a torino quindi con cosimo e con e con la fin commission qua qua di torino poi il rapporto col tan si è anche sviluppato abbiamo una bellissima mostra anche al maxi che ha raccolto un po tutto il suo lavoro sia di vignette che le graphic novel che i lavori per il fatto per i bambini però credo che il documentario abbia un po questa particolarità di mostrare tutta una serie di aspetti inediti dell'uomo della bella persona che è in qualche modo al tan e un po racconta anche da dove raccoglie le sue esperienze le sue insomma tutta una serie di riflessioni che credo siano insomma venute fuori in maniera convincente e completa ecco io sono entrato in corsa diciamo un documentario già già messo su produttivamente da andrea un lavoro lungo complesso e quindi quando andrea con cui avevo già avuto occasione di lavorare fra l'altro un film che era proprio in concorso qui a torino anni fa e mi ha raccontato del documentario di stefano che stimo molto e il fatto che ci fosse la possibilità per me di qualche modo di entrare in un progetto dove c'è un mio mito personale c'è al tan e non ho avuto nessuna esitazione tra l'altro anche il primo riconoscimento di un premio in un festival avuto nella nostra società è proprio in Ciputi vinto tantissimi anni fa qui con un documentario che si chiama pesci combattenti quindi mi sembrava una linea perfettamente che andasse perfettamente a ricongiungersi quindi sono molto orgoglioso di essere entrato in questo progetto Paolo abbiamo sentito appunto che il progetto è nato in un certo senso qua a Torino ha ricevuto il sostegno della Film Commission in che modo Film Commission ha contribuito alla realizzazione di questo film? Film Commission Torino Piemonte ha contribuito alla realizzazione con un contributo del Piemonte Doc Film Fund il fondo per il documentario che abbiamo avviato nel 2007 questo credo sia stato il lavoro più facile per la nostra commissione la commissione di valutazione nel momento in cui ha letto il progetto in una frazione di secondo ha pensato che fosse da sostenere Rubo sbagliando alla forza una citazione di un autore che Nicola Giuliano conosce bene non era solo bello, era proprio giusto di sostenere questo progetto perché è nato a Torino, perché c'è un legame profondo anche perché il premio Ciputi a sua volta parte da un Ciputi operaio che con Torino e con questa nostra regione ha un rapporto profondissimo ma poi c'è un rapporto anche di cui sono felice che l'Altan abbia parlato del rapporto anche poi sulle storie della Pimpa e di altri personaggi di tutta un'altra parte dell'Altan che tutti noi amiamo che è collegato anche con il lavoro fatto a Torino dal mondo dell'animazione ma poi il fondo che volevamo era qualcosa che sostenesse chissà raccontare non solo noi ma il mondo ricordare ma anche stare sull'attualità e io credo personalmente che nessuno come Altan abbia saputo e sappia ogni giorno continuamente raccontare il mondo con così lucidità anche ferocia e nello stesso tempo dolcezza e quindi credo che appunto fosse giusto che questo progetto che ha tutte queste persone che l'hanno lavorato con così grande passione e competenza ci fossimo anche noi ecco Volevo chiedere a Stefano ci sono lungo il film una serie di emergono una serie di concetti fondamentali nell'arte di Altan che vengono definiti anche con una certa precisione mi sembra uno di questi per esempio che mi piace molto è il concetto di stonatura un altro per esempio quello del ribaltamento del punto di vista soprattutto nella parte che riguarda Colombo ma poi ce ne sono altri poi anche alcuni uno su tutti che la definizione della poetica della finestrina che poi nel film addirittura assume un aspetto formale perché viene tradotto proprio nella messa in scena delle vignette quindi volevo chiederti sì quello della finestrina me la ricordo io evidentemente nel corso delle lunghe conversazioni dovevo aver citato Carver e a Checco a un certo punto gli è venuto in mente come dicevi tu prima parlando di Carver mi piace moltissimo in quella cosa il gesto che fa fa proprio con le mani fa apri una finestrina e tac quella cosa là è molto bella e penso che tu ti riferischi alle vignette che io ho poi fatto con non so se viene da quella finestrina forse inconsciamente sì come mi hanno chiesto dice che difficoltà hai avuto nel fare questo lavoro assolutamente nessuna è tutto scivolato così mi ero un po' anche abbandonato come dire una specie di intuito e non sapevo che altro seguire se non il mio intuito l'unico momento di ansia se così vogliamo definirla è quando mi è venuta in mente l'idea di fare delle vignette filmate dalle quali avevo assolutamente escluso il Ciputi perché il Ciputi non è riproducibile Ciputi mi viene in mente appunto l'ho detto tante volte dei versi di Attilio Bertolucci che dice noi ultimi figli dell'età impressionista a cui è concesso soltanto di copiare dal vero quindi Ciputi è proprio è diventato più vero del vero rifare il Ciputi sarebbe stato il vero del vero non era possibile gli altri mi è sembrato alcune dei altri personaggi sono tantissimi insomma alcuni dei personaggi a partire dalla donna dalle sue belle donne boccoli ma sempre pensanti e immediatamente mi è venuta in mente Stefania Sandrelli come possibile interprete per le coppie di Ugo e Luisa quelle coppie che stanno sempre così mi erano venuti in mente Angela Finocchiaro e Paolo Rossi tra l'altro io Angela Finocchiaro non la conoscevo ho chiesto a un amico se mi metteva in contatto con lei le ho mandato un whatsapp dicendo che stavo facendo una cosa per Altan e lei mi ha detto io per Altan mi metto a pelle d'orso questa è per dire la cosa e Stefania che pure diciamo è abbastanza iconica di per se stessa anche lei di fronte al nome d'Altan non ha avuto alcuna esitazione anzi poi ci siamo ricordati io non lo sapevo tanto Altan quanto lei che una delle prime tavole o insieme di vignette che Altan aveva pubblicato su un giornale delle ore in quella prima volta in copertina c'era una giovanissima Stefania Sandrelli che usciva dall'acqua in costume nero eccetera eccetera lui il giornale non ce l'ha più ma la Sandrelli ce l'ha ancora dicevo e concludo che questa cosa delle vignette mi dava una certa ansia perché le vignette sono veramente perfette e tuttavia ci leggevo la possibilità di riformularle ma mica peraltro come un gesto di un grande omaggio di tre grandi attori a un grande artista italiano e quando ne ho parlato con Altan lui mi ha dato la sua benedizione laica ma sempre benedizione era mi sono buttato e mi pare che il risultato sia soddisfacente a questo punto devo chiedere ad Altan se la benedizione quando ha visto il risultato la benedizione ci stava le è piaciuto vedere le sue poi se mi esce una benedizione non posso sicuramente tirarmi indietro quella benedetto è benedetto resti insomma no no ma sono contento del risultato come diceva Stefano è un'operazione un po' rischiosa perché soprattutto c'è una voce interiore che ha il lettore delle vignette che si legge con i tempi con l'intonazione che ha nella sua testa quindi propongene una esterna definita si corre un rischio ma in questo caso mi sembra che l'abbiamo evitato cioè lui l'ha evitato abbiamo citato più volte il premio Ciputi e il personaggio di Ciputi ovviamente anche perché appunto Stefano l'ha vinto e perché è uno dei premi a cui siamo molto affezionati al Torino Film Festival durante il film appunto Ciputi non è uno dei protagonisti di queste vignette ma chiaramente ritorna spesso e vengono date varie definizioni del personaggio di Ciputi dalle persone che parlano e Zio Mauro dice appunto che Ciputi è archeologia del vero il simbolo di chi lavora bene un'altra definizione che viene data l'emblema dell'etica del lavoro e della dignità umana Michele Serra dice che ha la struttura ambientale del filosofo per te Stefano chi è Ciputi? Eh come dice a un certo punto a saperlo Ciputi non lo so è uno che sta con te che ti accompagna ma io trovo meraviglioso l'idea che Ciputi ha di se stesso a un certo punto c'è una carrellata di disegni del Ciputi e l'ultima vignetta c'è Ciputi e uno dei suoi compagni di fabbrica che gli dice Ciputi e lui risponde ah bravo è un po' che ogni tanto non mi ricordo ma come cazzo mi chiamo? ecco cosa vuoi dire di più? sono quelle cose che non puoi non puoi dire tu chi è ognuno c'è il suo Ciputi ed è un dono che ognuno di noi porta con sé e decide da lui che cos'è insomma l'unica cosa appunto quello che mi piace molto perché quello ci tenevo molto io a un certo punto ho chiesto a lui ma come esci dalla nostalgia del fatto che ci ma al tempo stesso anche dall'ideologia perché non se ne può più di questa cosa di odologia la classe operaia non esiste più appunto a saperlo ma sicuramente nella nostalgia ma ancor meno l'ideologia della classe sono due cose che non funzionano bene per rispondere a proposito di chi è Ciputi un altro aspetto che ne parlava prima anche Paolo è la grande trasversalità dell'arte di Altan e c'è un'attenzione in un punto particolare del documentario sul rapporto tra Altan e i bambini l'energia che le trasmettono i bambini e il piacere che lei ha a lavorare per i bambini a fare ci racconta qualcosa di questo perché ci sono quelle immagini che proprio mostrano le lezioni quasi che lei fa con i bambini e sono molto emozionanti quelle immagini tra l'altro sono di un torinese perché me le ha date che io non conoscevo un carissimo amico di Altan e anche un carissimo amico di Stefano Benni e lui che mi ha fatto da tramite con Benni che anche lui quando si è tratto da Altan che si chiama Pietro Perotti che mi ha ringraziato in Fic ne ha usate poche c'è molto molto materiale soprattutto di Altan e i bambini sì dunque io ho cominciato a fare cose per i bambini quando abbiamo saputo che stavamo per averne uno che poi è una e io ho cominciato a prepararmi a questo passo piuttosto delicato facendo dei disegnini che poi Mara ricamava su dei vestitini perché io sono sempre stato convinto che sarebbe stata femmina per cui su quel punto non c'erano dubbi poi quando è nata io ho cominciato a fare altre cose storie con lei come protagonista che ancora non poteva né leggere né capire ma insomma finché quando aveva circa due anni in una di queste operazioni di gioco disegnato è venuta fuori la pimpa che il mio agente Marcello Ramone ha portato subito al Corriere dei Piccoli perché gli sembrava che funzionasse il Corriere dei Piccoli io non so perché l'ha subito adottata perché io vedendo le storie di Pimpa le prime non era bella come adesso insomma è diventata molto più carina però è piaciuta e da lì è cominciata questa storia che va avanti più di 47 anni ormai che faccio pallini rossi sulla cagnolina e ogni tanto vado in qualche scuola in qualche biblioteca dove incontro i bambini che la cosa bella è che loro non sanno che io sono l'autore perché l'autore loro non interessa per niente però quando comincio a fare la pimpa per loro è subito uno che dice ma come la fai bene allora io questo ci mette tutti a nostro agio poi io faccio delle cose loro le colorano l'ultima cosa che ho fatto con questi bambini è stata pochi mesi fa a Bassano del Grappa e alla fine qualcuno ha chiesto uno di questi bambini perché c'era un po' di televisione un po' di cose locali che filmavano ha chiesto il bambino cosa te ne è sembrato di questo signore che è venuto qua e lui questo ha detto è bravo ma è gentile per questo i bambini mi piacciono per questo se ci sono delle domande naturalmente fate un cenno che siamo in chiusura nessuna nessuna domanda bravi su questo bravi benissimo mi sembra un'ottima conclusione per la nostra conferenza stampa vi ringrazio molto per essere stati qui con noi per averci portato questo film così umano grazie davvero grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi